La diversità che vedevamo riconosciuta dagli altri, non eravamo ben accettati, perché questa libertà era fastidiosa, era pericolosa forse, invece per noi era scopo di vita, eravamo liberi da ogni preconcetto, da ogni moda, perché per noi fondamentale era riuscire a stare insieme, con la musica che ci univa, ma non solo, soprattutto i sentimenti. La diversità che vedevamo riconosciuta dagli altri, non eravamo ben accettati, e non si è una cosa che vedevamo ben accettati,